Sarebbero stati in procinto di fuggire verso la Repubblica Domenicana e per questo la notte scorsa la procura di Treviso ha dato il via libera ai fermi degli indagati. Lavoro frenetico questa mattina in tribunale per la presentazione della convalida per gli arresti dei quattro indagati per l'omicidio della 72enne Margherita Ceschina Conegliano. Si tratta dell'ex marito, l'ottantenne Enzo Lorenzon, che durante il fermo nella caserma dei Carabinieri di Conegliano è stato colto da malore e trasportato in ospedale, mentre la 32enne, il nuovo compagno Domenicana, Daisy Lorenzo, è stata trasferita nel carcere femminile della Giudeca. Trasferimento a Santa Bona invece per uno dei due presunti mandanti, Joan Maria Guzman, 41 anni, che dovrà rispondere anche di tre etti di cocaina rivenuti nel corso di una perquisizione. E Luciano Lorenzo Sergio Antonio, 38 anni, ritenuto uno degli esecutori materiali del delito. I due sono difesi dall'avvocato Fabio Crea. Al momento ancora non abbiamo il fascicolo per cui non siamo in possesso degli elementi e quindi non possiamo fare una valutazione su quella che è una concreta fondatezza degli elementi di accusa, cosa che sarà avvagliata dal giudice lunedì mattina dopo l'interrogatorio di convalida del fermo. Indagini ancora tutt'altro da chiudere perché l'ipotesi vede oltre al 38enne Luciano Lorenzo Sergio Antonio altri due sicari che sarebbero già stati identificati dai Carabinieri, mentre si sta stringendo il cerchio anche per l'altra donna già iscritta nella richiesta di convalida della procura di Treviso, ovvero Elisabetta Rosario Lorenzo che in tutta la vicenda avrebbe rivestito il ruolo di mediatrice tra gli amanti e i sicari. Una storia che lascia increduli i vicini di Joan Guzman che da tempo vive a Treviso con la compagna. Sempre educato, sorridente. Questo è l'unico che posso dire. Signora buongiorno, sono Lucio Zanato di Antenna 3. E guardi, per favore non disturbate perché ho una minore in casa e mi hanno già detto i Carabinieri che vengono fuori.